Ciao, se anche nella tua azienda più persone hanno delega agli acquisti, farai bene a seguire questo video perché oggi ti spiegherò come con un semplice strumento potrai portare ordine in tutto questo processo d'acquisto. I responsabili dei vari stabilimenti o delle squadre esterne hanno chiaramente necessità di approvvigionarsi di materiale per portare avanti il lavoro. Come ti trasmettono questa richiesta d'acquisto? Per telefono? Per email? A voce? Su un post-it? Come puoi portare ordine nell'intero processo d'acquisto? Puoi utilizzare il sistema di autorizzazione multilivello presente nell'online shop VIRT. Come funziona? È molto semplice. I responsabili acquisti consegna ai vari responsabili delle strutture esterne delle credenziali d'accesso all'online shop VIRT. Questi potranno selezionare all'interno del nostro catalogo esattamente il prodotto del quale hanno bisogno, lo potranno inserire nel carrello ma non potranno inviare l'ordine a VIRT. Ma l'ordine verrà prima inviato a te che lo supervisionerai, quindi controllerai se le quantità sono corrette, se ha senso acquistare quel prodotto, se lo stesso prodotto non è stato già precedentemente acquistato da un altro collega e solo allora quando sarai sicuro potrai inviare l'ordine a VIRT per l'evasione della merce. Oltre a questo ti possiamo fornire una serie di report statistici che ti aiuteranno ad avere sempre tutta la situazione sotto controllo, saprai sempre chi ha acquistato che cosa e quando. Di che cosa hai bisogno per attivare questo servizio? Assolutamente di nulla perché è tutto già presente nell'online shop VIRT. Sarà sufficiente dotare ogni responsabile delle sedi periferiche o degli stabilimenti produttivi o delle squadre esterne delle credenziali d'accesso per accedere al sito VIRT.it. Potranno selezionare immediatamente i prodotti di loro interesse e poi sarai tu e solo tu a decidere se autorizzare o meno l'acquisto.